Proseguo banished, banished. Allora, vediamo un po'... Vabbè, se... Dunque, vediamo un po' come... Pena, qua. Passiamo un attimo il tempo. Allora, qui come va? Sassuriamo un po', eh? Oltretutto recuperano anche pelle e carne, eh? Erbalista e amanetta. Va bene, non voglio alzare perché, perché altrimenti poi non controllo più tanto bene le risorse. Quindi devo... Devo far tutto con giudizio, eh? Ok, abbiamo la nostra situazione. Il commercio. Otto bambini, quattro studenti. Abbiamo gente da piazzare, il gather. Forest. Quindi per il momento va bene così. La popolazione va bene così tutto. Per Woodlow, però... Non c'è problema. E tra un po', ah, boh, non so, forse potrei rendere autonoma anche questa parte di villaggio. Quello che poi potrei fare quando... Allora, prima di tutto vediamo una cosa. L'alcol, come cazzo si produce? Perché che semi ci vorranno? Ecco, una cosa che potrei fare è... Mano a mano, acquistare le cose che non ho, tipo la semenza così. Elementarlo nella mia economia, però... Anche lì poi rischia di esagerare un po'. Poca pietra. Allora, facciamo così. Facciamo... Una miniera di fena. E non ho la pietra necessaria. , questo è... Un po' Fuori, 4260-6060. E non ho il tuo problema這邊. Potenziaire il caccio quindipra la posizione di fena锁. So è nonché un po'. E fin Shelly, si, Non mi attivo, sicuramente è il biscotto da pietra. Agricoltura ci siamo. Va bene, aumento la velocità. Anche da accumulare. Ecco, una cosa che posso fare è aumentare leggermente. Ma in realtà invece... Non sono andate su molto. Allora, freno nato. Un morto fisherman. Poi quando si rientri... Non so se dopo un po' di anni ti è svuota ora. C'è gli studenti qua. La casa è vuota ancora. La casa è vuota ancora. E' la casa con noi. No. www.marcoparet.com è un po l'età degli studenti 12 anni 11 non è proprio la nostra, non è addirittura d'arrivo 10 dunque a questo punto allora e quasi quasi lo faccio di qua al deposito perché almeno tutti hanno anche questa portata di mano le loro situazioni, va benissimo adesso autunno, si l'agricoltura ha finito e allora aspetta però il limite del cibo portiamo 15 minuti questa letta che si settava, non mi ricordo più production non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo calma calma allora frena un secondo great ah i pollettini accetta solo la pelle non accetta nient'altro figa figa però 400 400 al pollettino no niente questo giro ti lascio andare non abbiamo ancora perché non voglio non voglio star lì a sovraccaricare il vediamo cosa succede ok i 263 sono tanti se non mi ricordo la limitata di una 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 e adesso questo è quasi come se fosse un piccolo paese postiamo l'agricoltura dai che mi servono lavoratori cazzo non c'è molto da fare adesso che è più che aspettare poi devo trovare un compromesso tra la foresta il limite è qua quindi fin qua potrei ancora costruire tanto poi poi lascia restare ecco provate che c'è il lavoratore per tirare il limite facciamo di lavorare a togliere tutto è una bella pulizia raccolto va tutto bene e questo è esagerato un po' gli italium non è inizia non è inizia non è inizia a l'eserci con la luna e inizia non è inizia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi dopo si andrà avanti a costruire. Poi lì è un po' il limite della foresta. Allora gli altri lavoratori, fatemi anche... Così a cuore. Allora parecchia legna... Ragazzini ci siamo. Allora è morto uno, un Fisherman. Va bene, già sostituito. Fatto di strada ci siamo. Cazzo, un altro modo. Allora questo va bene, andiamolo a... Allora... Allora... Dunque facciamo così. Un paio di case... Se ne frega se aumenta la popolazione, tanto per adesso siamo coperti un po' in tutto. Due case... Due case... Allora... 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 Late winter non posso... Brigitte and Branket... Però... La pietra ne abbiamo abbastanza... Un po' il pelo, mi so. Eh... Perché è partita? Ah... Allora... Wool è la lana... Pitch seeds... Per la madonna... 2500, sì. Perris... Eh... Vabbè sono tipo i... Mirtilli... Mettiamo la lana... Va... E la mettiamo via... Bene... Proprio avanti quando ne avremo tanta... Magari faremo anche... Allora... Fammi pensare un attimo qua... Dunque... Per far costruire la situazione... Ti posso rinunciare... A rinunciare un pescatore... Presuppare un pied... Clic... Per SME... Perら... Un po' acile... Ch標, inoltre... Il visto a Palermo... Il visto fine d'ELA... Il visto così ancora... Eransc sticker le cordone... Ma bisplice... ... e Adesso qui bisogna vedere quanti ci sono, non bisogna, eh, almeno sarà da 4 persone, penso. Perché è morto? Il Fabro. Il Fabro. Vai, staccano. Bene. Vabbè, solo uno ne richiede. Bene. E l'altro, sì, lo rimetto il pesce. Perfetto. Adesso dovrebbe aumentare anche la felicità, la salute e la felicità. Chi è che è morto adesso? Niente c'è. Vedete che c'è. Trader ci sono. Sailor, Blacksmith. È un Forester. Ora tolgo un trader e lo metto a fare il Forester. Tanto trader 2 basta in avanzo anche lì. Potrei lasciarne anche uno solo. Bene. Anche lì c'è un po' di tutto. Perfetto. Perfetto, un porto è un porto più. e per il momento niente poi pian piano quello che dovrò fare sarà migliorare la produzione ad esempio lì in fatto di vestiti wool coat warm coat meglio ancora pelle più lana allora frena due lavora tre lavoratori via forester together ora io direi che il video tanto un qualcosina è stato fatto sono andate avanti ancora tante raggiungerà sempre un mattoncino oh cazzo continuo a perdere i raccolti evidentemente sono in pochi per questo uno va bene questo e che andri e non c'è a casa e voi chi siete e tu chi sei top forest che cazzo sta facendo è perso e mi sa che si tanto finire di là e non riesce più a tornare indietro perché non c'è ma porca troia devo fargli un ponte solo per lui eh questo è buffa eh 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 però vediamo eh eh ma come cazzo ha fatto a finirti là eh 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 vabbè sì rifaccio un attimo il ponte ma il po' lì 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 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info dove era boh? vabbè cazzi suoi tanto prima o poi avrei fatto ugualmente un attimo il ponte ma spero che vada bene il fatto di barche è che non ci sono altri punti immagino di si che cazzo quel coglione 24 anni che non serviva no vabbè dov'abbè lo passo dai ma datevi una mossa questo ponte su va lì da due martellati mi fa troppo girare i coglioni non sono ridicoli dai su va là va là va là lavorare lavorare la barca doveva passarti va bene comunque abbiamo già il collegamento poi magari di qua facciamo un qualcosina per fare di qua l'industria le cave le miniere qui ha spazio per la foresta qui magari poi sarà un altro spazio per l'agricoltura qui sviluppo però il resto del paese qui sviluppo però il resto del paese qui sviluppo però il resto del paese le case potrei fare tutto intorno poi anche fruttare questa parte qua tutta pieneggiante allora leviamo questi tutto poi resta il completiamo va bene ragazzi vi saluto chiudeci fino alla prossima ciao